Per lui che ti ha fatto il pezzo? Ah, non vuole. C'è una persona che ti vuole dire? No, ovviamente lui ha venuto, secondo queste cose, ha affrontato qualche cosa. Ah, beh, Anna, perché lui era abituato, ma se io la portavo già da più piccolo e diverso, perché più sei a mezzare le persone, più sei a vita. Io non so, come se tu mò lo tieni chiuso, non puoi andare male, lo tieni chiuso, un bel momento di interventuale, non mi pazzisce, è normale. Io perché non è abituata a sempre, non è vero. Questa è la scuola, perché questo non mi ha fatto niente. Lì è una piccola. Questa è la scuola delle ragazze, non mi piace. Eh, mi piangono. Questa è la scuola delle ragazze. Ah. Molto interessante è che cosa vuoi fare della scuola, perché non è vero e cosa vuoi fare magari anche di una scuola delle ragazze. Eee, vediamo il momento. E' una scuola delle ragazze. E' una scuola delle ragazze. È una scuola delle ragazze. E' una scuola delle ragazze. Ma ci siamo a tutti, ma non sei scemo. Ci fanno tutti i sacchi, ci fanno tutti i gas, se no, ma non sei scemo. Ma non è che tu, perché la scuola è che la scuola è che la faccia. Alla fine. Ora è come se comunque sono solo lungo, perché alla fine non aveva rapporti con i suoi amici, perché comunque si sostegna. Quindi non è più lungo. Se ne sapeva più zone. Però le faccio solo le medie, le più larghe, le più fratte, le più larghe. Le medie perché sono più piccoli i bambini interaggeva un po' di più, scriveva le cose. Mi scriveva un po' di più, che sono anche falsi. Non posso riuscire. Quindi non sai che fare le cose, non sai che fare le cose, non sai che fare le cose per un impegnato, per fare altre cose, per fare le cose, per fare le cose. Tutto. Mi insegno un po', lo fanno anche in Germania, in Germania, in Germania. Quella precisione, mi dà il lavoro e fa sempre lo fa bene. Fai questo. Non esatto, fare delle cose. E' un'intelligenza. 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 Ah. Guarda. Ah. Ma sembra, ma niente, ha impazzito a lui. Lui c'ha l'interesse della fotografia, l'interesse della musica, cioè tu potrebbe veramente scopare, facendo fare queste cose, e poi a me la fine tu, non è che la roba, non è che la roba, non è che la roba. No, a me la fine mezza giorno la vita, la tua vita, non è che la roba, ma lui è andato al cornetto, io quella mezza già matto, la fine mi devo stare lì per una mente, concentrata fisicamente, concentrata, come venire il Giubano, Cos'è?